Benvenuti al MIF, Milan International Fast Fashion, la prima fiera in Italia per il pronto moda e il semiprogrammato. Pronto moda di qualità, pronto moda made in Italy e non prodotto cheap. Pronto moda a livello di servizio che permette ai dettaglianti di essere costantemente riaggiornato su quelle che sono le nuove tendenze del mercato. Pronto moda che gli permette di competere con quello che fanno le grandi catene. Poi abbiamo inserito per tutti i visitatori un servizio gratuito in collaborazione con Key System che permette ai dettaglianti di avere gratuitamente sul loro sito i prodotti che hanno comprato dai diversi produttori in modo da informare i clienti finali su quello che vedono. Nella fiera c'erano produttori molto qualificati per uomo, per donna, per accessori e c'erano ovviamente clienti italiani, negozi multi brand molto qualificati che per combattere la crisi hanno potuto aderire a questo nuovo sistema Key System rivoluzionario nel mondo e orgogliosamente posso dire che anche la nostra fiera è stata la prima ad aver raggiunto questo accordo con Key System e sono convinto che farà scuola che anche se siamo piccoli arriveranno a questo binomio tra la fiera e il web anche le fiere più importanti. Dunque sono orgoglioso di essere stato il primo a farlo e spero che sarò seguito da tanto.